Benvenuti in questo nuovo video, io sono Francesco Graziani sempre per gli stocchisti e questo è l'unboxing dell'Xperia Z1 Compact. Lo Z1 Compact è sicuramente un dispositivo molto molto particolare perché a differenza degli altri dispositivi mini rappresenta veramente una versione più piccola del fratellone più grande. In questo caso lo Xperia Z1. Quindi praticamente stesse caratteristiche più o meno e però in un formato molto più compatto, appunto compact, per chi non vuole portarsi a preso un padellone tra virgolette come magari è un dispositivo con schermo molto grande. Andiamo a vedere il contenuto della confezione che io ovviamente ho già aperto. Ho scelto di provare ad unboxare questa versione Lime che ragazzi è veramente fantastica. A me piace tantissimo. Mi metto un attimo a fuoco. Ok. Allora, l'Xperia Compact è un telefono così come l'Xperia Z1 che praticamente ha il retro in vetro, in Gorilla Glass, proprio come il fronte. Quindi tende a prendere un pochettino di impronte. Sicuramente con questa luce non riuscirete a vedere la bellezza di questo colore ma solo le impronte. Però vi assicuro che è veramente molto molto bello e soprattutto è colorato, almeno per cambiare un pochettino il, diciamo, differenziarsi un po' dagli altri telefoni. Tranne i Lumia che sono già tutti belli colorati. Mettiamo da parte il telefono un attimo. Abbiamo le solite pellicolette, come troviamo sempre, insomma, in qualsiasi scatola, proteggevano il dispositivo. E sorpresi ne abbiamo. Vabbè, a parte il cavo, insomma, USB, micro USB, gli auricolari che sono Sony in ear e dovrebbero garantire veramente un'ottima qualità audio, però ovviamente devo provarli ancora perché sono ancora sigillati. Vari pezzettini di ricambio, compresa la clip per sempre gli auricolari. Il caricatore a muro, abbastanza piccolino, non è minuscolo ma comunque non è neanche di quelli enormi. E poi, sorpresina, dicevo, abbiamo un cavo USB host. Cavo USB host che praticamente serve a collegare praticamente qualsiasi dispositivo USB come un controller della PlayStation 3, per esempio, che supporta ufficialmente questo telefono. Oppure magari una penna USB, un hard disk esterno, se alimentato adeguatamente, e per, magari una penna USB sarebbe più consolo, per avere accesso a, che ne so, serie TV, film, video personali, comunque avere uno storage esterno da attaccare praticamente al telefono. Veramente un'ottima funzionalità, normalmente si compra a parte e non tutti i telefoni lo supportano. Questo lo supportano attivamente, veramente un'ottima scelta da parte di Sony. Per quanto riguarda il dispositivo, vi faccio vedere un pochettino le dimensioni. Allora, lo schermo è da 4 pollici e 3. Vi dico un pochettino le dimensioni. 127 mm di altezza, 64,9 di larghezza, spessore di 9,5 mm. Il peso è 137 grammi. Devo dire che è molto ben bilanciato e che si tiene veramente molto molto bene in mano. Non c'è nessun problema ed è molto maneggevole. Anche ad una mano si utilizza senza nessun problema. La fotocamera è da, ve la metto a fuoco un attimo, è da 20,7 megapixel con lente Sony G, sensore Exmor S e processore Bions. Quindi una fotocamera che dovrebbe essere a livello delle compatte Sony. Ovviamente per quanto riguarda la qualità effettiva, vedremo tutto insomma, il tutto insomma nella recensione. Per quanto riguarda invece i lati abbiamo pulsante di accensione e spegnimento che è bombato, diciamo fuoriesce ed è veramente molto carino, bilanciere per il volume e soprattutto pulsante dedicato per la fotocamera a doppia corsa, come nei Lumia o come in una fotocamera compatta. Ottima scelta. Sotto abbiamo la griglia che protegge speaker e microfono. Di lato abbiamo questi due connettori che servono per attaccare un eventuale accessorio come una basetta di ricarica. E poi abbiamo slot per la micro SD, slot per la SIM card che è micro e slot che protegge la presa USB, micro USB. Perché tutti questi slot? Perché questi sportellini diciamo, perché il telefono è impermeabile. Certificato IP55, IP58, quindi resistente ad acqua e polvere. Il processore è una Snapdragon 800 quad core da 2,2 giga. La batteria da 2300 mAh dovrebbe garantire un ottimo utilizzo fino a sera. E la RAM interna è di 2 GB. Memoria interna 16 GB espandibile come abbiamo visto con micro SD. Non vi ho fatto vedere la parte superiore nella quale è posto il jack per le cuffie, che non è protetto da sportellini. Quindi mantiene l'impermeabilità pur non essendo coperto da sportelli vari. Quindi esteticamente ci troviamo di fronte a un piccolo gioiellino. Personalmente, e questo ci tengo a precisarlo, non sono mai stato fan della serie Xperia e dello Z1. Aspetto con molta molta impazienza di provare lo Z2 e nel frattempo proverò questo Z1 Compact. Il telefono ovviamente è LTE, include una radio FM e sinceramente non vedo l'ora di provarlo. Questo era l'Xperia Z1 Compact, un telefono sicuramente molto interessante per chi non vuole un prodotto troppo grande. Ci vediamo al prossimo video!